Ieri 21 marzo l'associazione Riccardo Simula, che ha come scopo principale quello di fornire assistenza alle famiglie che combattono con il dolore per la perdita di un figlio, si è riunita in Piazza d'Italia per promuovere l'iniziativa di istituire proprio il 21 marzo la giornata dei figli defunti, in concomitanza con il primo giorno di primavera che segna la fine dell'inverno. Per l'occasione, grazie al patrocinio del comune di Sassari, è stato allestito un gazebo in Piazza d'Italia, dove l'associazione ha potuto accogliere tutti i cittadini interessati e presentare il proprio progetto assistenziale alle famiglie che vedrà in futuro anche l'organizzazione di alcuni eventi dedicati.